anticipazioni tempesta d'amore trama puntate mercoledì 15 giugno 2022 quando michael apprende dei debiti contratti da rosalie con christophe si mostra molto preoccupato e decide di saldarli in fetta costi quel che costi raggiunto dal dottore il salfield tace sulla natura dell'accordo mancato con la engel intanto quest'ultima appresa la mossa del compagno si sente umiliata e ne consegue una discussione rosalie accetta di uscire con christophe per provare un nuovo liquore da aggiungere al bar mai apprende delle ricerche del professor bertold e insieme ad annes decide di incontrarlo disperata lo supplica di continuare a lavorare per lo sviluppo dell'antibiotico utile a salvare molte vite il medico però delude fortemente le aspettative dei ragazzi affermando che per finanziare il grande progetto occorre ricostituire un valido team e che lui purtroppo non dispone di denaro a sufficienza non dispone di denaro a sufficienza